Allora, questa misura che abbiamo pensato insomma sulle misure del sisma è una replica diciamo di ON adattata insomma al cratere sismico, alle misure del rilancio del cratere sismico. In particolare questa è una misura dedicata appunto abbiamo detto finalizzata all'avvio e alla crescita e al rientro delle PM localizzate nelle aree colpi del sisma 2009-2016, è destinata a micro, piccole e medie imprese ed è possibile effettuare domande anche da un team di persone fisiche che non sono ancora costituiti, riprendendo un po' la modalità che abbiamo già sull'incentivo nazionale ON. Per poter accedere a questa misura bisogna avere una sedia operativa nei comuni delle cratere sismici del centro Italia 2009-2016 ed essere regolarmente iscritti e attivi nel registro imprese. Chiaramente per le imprese non costituite la riscrizione deve essere fatta 30 giorni dalla delibera di ammissione alle agevolazioni. Cosa finanziamo? La misura si divide in due capitoli, diciamo il capo 2 e il capo 3. Il capo 3 è riservato alle aziende costituite da un più di 60 mesi e sono programmi di investimento e volte la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o la sviluppo di attività esistenti, quindi con una spesa minima di 400 mila euro, quindi investimenti minimi di 400 mila euro e investimenti fino a un milione e mezzo di euro. Mentre per quanto riguarda le imprese già costituite da più di 60 mesi, si possono fare nuove attività produttive, consolidamento di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, diversificazione, produzione mediante i nuovi prodotti aggiuntivi e trasformazione radicale. Le spese ammissibili sono fino a un minimo di 400 mila euro fino a un massimo di 2 milioni e mezzo di euro. In ogni caso non è mai permessa la mera sostituzione dei beni, ma è sempre che deve essere un ampliamento dell'attività già esistente, un'implementazione di nuove linee produttive. Se volete le domande per me potete anche cominciare a farle adesso, se vi è utile, se volete prendere già qualcosa in corso. I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dall'attivo del contratto di finanziamento che avverrà dopo la delibera di ammissione. E riguarda sostanzialmente questa misura la produzione di beni in tutti i settori possibili, nell'industria artigianale e trasformazione dei prodotti agricoli, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi è limitato all'e-commerce, per quanto riguarda invece gli esercizi fisici, soltanto gli esercizi vicinati con una superficie di vendita non superiore ai 150 metri, localizzati nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10 mila abitanti. E' chiaramente esclusa da come si vince la produzione primaria in agricoltura. Quali sono le spese ammissibili? Le opere murari fino al 50% di investimento ammissibile, macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, consulenze specialistiche fino al 15% di investimento ammissibile, e anche gli oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento, che spiegheremo dopo perché si fa, cioè le spese notarie, e per la costituzione della società per quanto riguarda le compagini che rappresentano come team di persone fisiche con imprese da costituire, quindi considerate come spese ammissibili anche le spese per la costituzione. Per quanto riguarda le imprese che hanno meno di 60 mesi, quindi stiamo parlando del capo 2, la copertura può arrivare fino all'80-90% delle spese ammesse, a seconda delle varie progetti e delle premialità che ci sono, con una combinazione di un mutuo a tasso zero e fondo perduto fino al 50% dell'investimento ammesso. Facciamo riferimento all'articolo 22 del GBER e quindi un investimento, in questo caso ripetiamo, fino a un minimo di 400 mila euro, massimo un milano e mezzo, può arrivare a coprire il 90% delle spese con un mix tra fondo perduto e mutuo a tasso zero. Ribadiamo il tasso zero, perché non trate 10 anni, verrà erogato direttamente da Invitalia. Per quanto riguarda invece le imprese costituite da oltre 60 mesi, l'indicazione della struttura commissaria è stata di mettere più regimi di aiuto, questo capiamo per voi che dovete fare animazione territoriale, sarà un po' complicato, però cerchiamo di spiegarvi un po'. Nel tutto si fa riferimento al temporary framework 3.13, che sarebbe gli aiuti temporanei legati al Covid, e si può arrivare sempre un contributo mix tra fondo perduto e mutuo a tasso zero, fino all'80% della spesa di risulta ammissibile. Però il mutuo in questo caso sarebbe di 8 anni, se si sceglie questo temporary framework. Noi comunque abbiamo messo a disposizione delle aziende, e anche vostra chiaramente, dei fogli di calcolo che saranno pubblicati, credo oggi, sui vari siti, che permetteranno di scegliere dalle aziende, insomma, le varie tipologie di aiuto che vogliono utilizzare. Per quanto riguarda il temporary framework, diciamo, si arriva fino al massimo del 30%, perché il fondo perduto sarà, se si sceglie questa tipologia, fino al 30% per quanto riguarda le micro e piccole imprese del fondo perduto, mentre il 20% le spese ammissibili per le medie imprese. Se invece l'impresa è localizzata nei comuni, ricompresi le zone C della carta di aiuto di Stato, stiamo parlando sempre della scelta del temporary framework, il fondo perduto, quel mix, il fondo perduto insieme con il mutuo, può arrivare fino al 45% per le micro e piccole imprese, e il 35% per le medie imprese. Questo per quanto riguarda se si sceglie questa tipologia di aiuto. Per quanto riguarda invece, se si sceglie il quadro temporaneo, il temporary framework ucraina, in questo caso sarà possibile scegliere soltanto il fondo perduto, quindi non c'è possibilità di fare il mix. Quindi sarà possibile soltanto scegliere il fondo perduto, il valore non può essere superiore a 400 mila euro, sarà 60% dell'investimento ammissibile per le micro e piccole imprese, 50% per le medie imprese. Però se c'è il temporary framework ucraina, non si potrà avere il mix fondo perduto e mutuo, quindi soltanto un fondo perduto che sarà il 60, il 40 o il 50 a seconda dimensione dell'azienda, per un importo non superiore ai 400 mila euro. Mentre se si sceglie l'articolo 17 del GBR, si potrà arrivare a un importo complessivo dell'80% di copertura, il mutuo potrà essere a questo punto di 10 anni, e il contributo a fondo perduto potrà avere fino a un massimo di 15%, quindi una maggiore copertura, ma un fondo perduto più basso. È possibile anche chiedere soltanto il fondo perduto, per quanto si sceglie il regime dell'articolo 17 del GBR, che sarà pari al 10% per le medie imprese, al 20% per la spesa di due ammissibili micro e piccole imprese. Ci sono delle premialità, tra l'altro, che poi trovate sempre nell'articolo 11 che riguarda la Capo 3, che sono per le imprese sedine comuni maggiormente colpiti al cratere, per le imprese composte in maggioranza da giovani, progetti di trasmissioni in presa, e i soggetti promonenti che al momento della presentazione della domanda di accesso a giovazioni avranno sede legale operativa nell'area del cratere prima del 18 gennaio 2017. Allora, come si varranno valutate? Innanzitutto c'è una procedura a graduatoria per le imprese non danneggiate dal sisma, perché la distinzione del bando fa tra le imprese danneggiate dal sisma e quelle non danneggiate dal sisma. Per quelle non danneggiate dal sisma, vengono attribuiti i punteggi, che l'avete nell'allegato 3 dell'allegato all'ordinanza 25, in cui sono dettagliati tutti i punteggi che vengono attributi per l'agro datore, quindi sono facilmente individuabili, e in ciascuna impresa può farsi già i conti prima dei punteggi che potrebbe avere. Per quanto riguarda le imprese del Capo 3, danneggiate dal sisma, quindi che hanno più di 60 mesi, che sono stati danneggiati dal sisma, si procede da sportello, quindi non c'è un agro datore, ma si procede da sportello in ordine cronologico, fino all'eserimento delle risorse. Cosa valuteremo? Il presidio della competenza tecnica e maggioriale, l'aspetto tecnico-organizzativo, l'analisi dei potenziali del mercato di riferimento, la sostenibilità economico-finanziare, coperture dell'investimento, e la funzione dell'investimento della sede operativa. Questa misura a 40 milioni, che fa parte del pacchetto complessivo di tutte le varie ordinanze, che sono, ricordo, 600 milioni di Euro, e non c'è un colloquio su queste misure, cioè non è soltanto un esame documentale, su cui potremmo richiedere la richiesta di integrazione. Tengo a precisare che la ripartizione di queste somme, come scritto anche nel bando, è fatta al 33% per quanto riguarda le imprese che sono ricadenti nell'area del sisma 2009, e la restante parte per quanto riguarda le imprese ricadenti nel sisma 2016. All'interno di questa ripartizione ci sarà anche una ripartizione regionale che verrà fatta tramite ordinanza commissariale. Le garanzie. Per quanto verrà erogato il mutuo, per un mutuo superiore a 250 mila Euro, se sito a privilegio, scusate, fino a 250 mila Euro, verrà sito a privilegio generale, che è il privilegio generale di tutte le leggi agevolative. Per un mutuo superiore a 250 mila Euro, verrà sito a privilegio speciale, dove acquisibile gli investimenti agevolati, ovvero un privilegio speciale che verrà scritto sui beni oggetto dell'agevolazione tramite un atto notarile. Per quello, diciamo, c'è un contratto di finanziamento che verrà fatto tramite atto pubblico, laddove il mutuo è superiore a 250 mila Euro, per permettere di scrivere questo privilegio speciale sui beni oggetto dell'agevolazione. Qualora l'investimento comprende anche la costruzione di immobile, verrà scritta ipoteca di primo grado sul medesimo immobile. L'erogazione e l'agevolazione avviene tramite cinque sale, un massimo di cinque sale, ciascun sale deve essere pari almeno all'importo del 10% e può essere presentato sia con fatture inquietanzate che fatture non inquietanzate, ovvero si può presentare delle fatture non pagate, il primo sale non può essere superiore al 20% delle agevolazioni concesse e successivamente dimostrare il pagamento al sale successivo delle sale precedente che è stato presentato quindi con le fatture non inquietanzate. È possibile fare su ciascun sale anche un mix di fatture inquietanzate e non inquietanzate. È possibile anche un anticipo del 40% dell'agevolazione concesse a fronte di una garanzia fidei e usoria. Lo sportello verrà aperto così come la relatoria tutti e due il 15 settembre 2022 alle ore 10 e verranno chiusi se non al 14 ottobre 2022 chiaramente lo sportello in caso di esaurimento delle risorse potrebbe essere chiuso prima mentre la gradatoria rimarrà aperta per tutto il tempo perché la somma stanziata per le procedure sportelle e la gradatoria sono equamente distribuite tra le due modalità. Noi abbiamo messo a disposizione credo da oggi da online il format di domanda del piano di impresa la modulistica la scheda tecnica della proposta calcolo contributi che è un sistema in Excel che vi permette di calcolare il contributo a ciascuna impresa secondo di quello lo schema che ha scelto l'investimento che va a realizzare e il regime di aiuto che verrà scelto tutto questo sarà pubblicato nei siti che vedete qui sotto che sono quelli del commissario governativo al Sisma sul sito di Invitalia e sul sito dedicato che è nextappenino.gov.it Grazie a tutti Grazie a tutti